Sindaco, nella giornata di San Giuseppe il Comune ha messo a disposizione gli esterni per allestire i tavoli, ospitare tante persone che hanno bisogno, un'occasione per stare insieme in questa giornata. Padre Mario è un esempio di come a Catania si possa fare effettivamente solidarietà senza fare clamori e senza fare schiamazzi. Ogni venerdì Padre Mario assieme ai volontari della sua parrocchia fornisce più di 300 pasti caldi a coloro i quali hanno bisogno e per San Giuseppe c'è la tradizione di organizzare questo pranzo da parecchi anni a piazza Università. Da tre anni abbiamo pensato che fosse opportuno che invece di piazza Università si facesse all'interno del palazzo municipale, l'abbiamo messo a disposizione e quindi io sono contento che la solidarietà, quella vera, quella concreta, quella che poi si vede e si tocca con mani, che vede il mondo cattolico impegnatissimo, le parrocchie e i volontari a contatto con le istituzioni, il che penso sia un fatto assolutamente positivo. Padre Mario Torracca, oggi nella giornata dedicata a San Giuseppe questa iniziativa per stare insieme, per aggregare un po' di persone, cosa che fate voi ogni anno, ma sono tante altre anche l'iniziativa e gli appuntamenti che vogliono rendere un po' più felice le giornate dei meno abbienti. Sicuramente oggi è un momento di festa che vogliamo vivere insieme ai nostri fratelli con i quali condividiamo tutto l'anno un cammino, noi come Casa del Sorriso, struttura che sorge proprio accanto alla parrocchia, tra le varie attività abbiamo anche questa attività di mensa per i poveri. Per cui noi ogni venerdì e adesso su invito della Caritas anche il sabato andiamo sia alla stazione che verso l'università per portare più di 300 pasti caldi ai nostri fratelli senza fissa di mora, ai fratelli che non ce la fanno arrivare a fine mese. Ecco è un aiuto, diamo al venerdì, diamo anche dei pacchi spese in modo da poter affrontare più serenamente la città. Anche nei momenti di festa è bello gioire con loro, stare accanto a loro ed è molto bello fare questo cammino insieme. La Casa del Sorriso prevede poi anche altre attività che sono già in funzione, abbiamo una foresteria dove accogliamo i parenti dei genti all'ospedale Cannizzaro e spesso non hanno la possibilità economica di andare in albergo, noi li accogliamo gratuitamente, hanno un ambiente accogliente dove possono stare. E poi adesso si aprirà dopo Pasqua anche il fiore all'occhiello che sarà un poliambulatorio per i più poveri. E chi volesse prendere contatti con voi, in che modo può aiutarvi? I volontari sono sempre bene accetti, devo dire che già ne abbiamo tantissimi, c'è anche tutta la parrocchia che è in movimento, in fermento, cresce sempre più specialmente tra i giovani la cultura del volontariato. Ma le braccia servono sempre, quindi chiunque, io voglio dire l'appello che faccio anche, vi ringrazio attraverso la vostra emittente, è che chi vuole donare un po' del proprio tempo, sprechiamo tanto tempo. A volte perdiamo ore interi o la televisione senza far nulla, ecco, donare qualche ora per i nostri fratelli fa bene a loro, ma fa bene anche a noi.